Proseguono spediti nel comune costiero di Silvi, lavori in difesa della costa sud. A stretto giro verranno completati gli interventi antierosione con la barriera soffolta, mentre è già iniziato il maxiripascimento da 12.000 metri cubi nel tratto che va dall'ex villaggio del Fanciullo al Circolo Nautico. Grazie alle belle giornate il posizionamento delle barriere procede nel rispetto del cronoprogramma pianificato dai tecnici regionali, questo anche grazie alla regolarità dei massi che stanno arrivando in maniera continua. Dunque per i balneatori interessati dagli interventi l'estate 2022 rappresenta quella della ripresa per le loro attività, dopo il rischio scongiurato di non poter assicurare l'installazione e il servizio degli ombrelloni a causa della mancanza di arenile. Dopo tanta attesa finalmente i lavori sono ripartiti per quanto riguarda il tratto costiero interessato dall'erosione nella zona sud di Silvi. Naturalmente l'altro giorno con la visita del Presidente Marsiglio e del Sottosegretario Daniuntis è stata finalmente evidenziata l'importanza di questi lavori, non solo il ripascimento per dar sì ai balneatori di affrontare una stagione estiva alle porte, ma soprattutto con la ripresa dei lavori delle barriere rigide e delle scogliere che naturalmente hanno la necessità di concludersi il prima possibile. Siamo felici di quanto si sta muovendo in questi giorni, consideriamo che il lavoro è ancora lungo, ma soprattutto che il mare non può più attendere e abbiamo bisogno di un intervento definitivo.